Se si dispone di uno scanner collegato al computer, Acrobat consente di creare file PDF direttamente dal documento cartaceo tramite scansione. Da File, Crea PDF, Da Scanner. In questa finestra vengono visualizzati i predefiniti di conversione. Documento in bianco e nero, documento in scala di grigi, documento a colori, immagini a colori, oppure scansione personalizzata, ovvero la possibilità di immettere dei valori definiti dall'utente. Nei predefiniti è possibile inoltre configurare i predefiniti di conversione, ovvero modificare le opzioni di base e salvarle nei predefiniti. Attraverso la scansione è possibile anche eseguire un riconoscimento ottico del testo, ovvero trasformare l'immagine del documento cartaceo sulla quale è stata effettuata la scansione in testo editabile, oppure rilevare automaticamente i moduli presenti sul documento cartaceo. Procediamo ora a convertire un documento cartaceo in PDF con il comando Crea PDF da scanner e utilizzando uno dei predefiniti disponibili in Acrobat. Vi ricordo che i predefiniti di scansione sono disponibili solo su sistemi operativi Windows, non sono disponibili in Mac OS. Selezioniamo il predefinito di scansione documento a colori. Acrobat effettuerà il collegamento con lo scanner e avvierà la scansione. Al termine verrà visualizzato l'avviso per scansione completata oppure acquisisci più pagine o acquisisci il retro. Ok. L'immagine relativa alla scansione viene visualizzata in Acrobat che procede anche a predisporre il giusto orientamento. Nella lezione successiva analizzeremo le opzioni di scansione e le opzioni di ottimizzazione del file.